Salve youtubers e benvenuti per questa diciottesima gameplay di Pokémon Smeraldo qui con Bloody Rose 2.5.8 Dunque, nell'ultima gameplay eravamo andati nel deserto, abbiamo trovato i fossili, noi, almeno io, ho preso il radifossile, ovvero quello che tramutato sarà Lilip, roccia erba, e ho lasciato perdere quello di Anorith, che è Coleot e roccia, ma semplicemente per un gusto mio, personale. E oltretutto avevo catturato, se non vi ricordate male, Trapinch, e ho detto che l'avrei fatto allenare. Detto fatto, e ho catturato anche un altro Pokémon, ovvero Cacnia. Allora, Trapinch, come vedete già, li ho fatti allenare abbastanza, livello 34 Trapinch e livello 31 Cacnia. Trapinch è di natura... scusate, ho cliccato male. Allora, è di natura decisa e non è male, però purtroppo ha un piccolo difetto Trapinch, ovvero, come vedete l'attacco è di quello che è, purtroppo non impara mosse utili di terra. Nel senso, se volete che Trapinch impari una mossa più o meno utile di terra, o usate la MT, ovvero gli insegnate terremoto, che è quella più utile, oppure dovrete farla arrivare fino al livello, mi pare, 40, ma da Trapinch, però. Non dovete farla evolvere. Il problema è che se si evolve dopo il 40, non impara Dragospiro, che può impararla solamente Vibriva. E oltretutto, anche di... a livello di mosse, anche di Drago, non impara assolutamente una Cippalippa, se non Dragospiro e qualche cosa forse con le TM. Quindi non è un grandissimo Pokémon in questa generazione. Molto bello, bellissimo, senza ombra di dubbio. Ma, ecco, bello si è fatto allenare con le MT, si è fatto sistemato in questa maniera, quindi sprecando determinate cose e non potendole più riutilizzare. Ho deciso di tenerlo comunque e l'ho fatto arrivare a livello 34. Al prossimo livello si evolve. Volevo fare questa cosa insieme a voi, ovvero farla evolvere mentre ci siete anche voi insieme a me. Oltretutto, ho preso il piccolo Cacnia. Cacnia, tipo erba, che diventerà Cacturn, erba buio, è buono, modesto. Se non mi ricordo male, sì, modesto. Perché? Perché sia buio che erba, in questa generazione particolare, dovrebbero essere tutte e due classificati come speciale. Quindi, manco a ridurne la velocità, già è molto lento Cacnia di suo. Quindi, ridurne ancora la velocità è un po'... ecco, come vedete, 29 di velocità a livello 31. Cioè, è un po' dare una zappa sui piedi a Cacnia, in questo caso. Gli ho dato il mira col seme per potenziare le mosse d'erba. Ed è della natura quieta, ovvero più attacco speciale, meno velocità. È un po' sacrificato. Purtroppo ho catturato una valanga di Cacnia, però non mi è uscito mai quello modesto. Quindi ho preferito tenere il migliore fra quelli che ero riuscita a catturare, anche perché non potevo sprecare tutte le bolle. Anche lui l'ho lasciato a livello 31, in modo tale che al 32 si evolve in Cacturn. E lo dovremmo vedere in questo gameplay, spero. Come vedete, assorbimento, crescita, radicamento e finta. Ora, assorbimento non penso che gliela lascerò. Crescita probabilmente sì. Radicamento gliela lascio, perché la sto utilizzando al posto di Leech Seed. Che ora non mi sta avvenendo il termine italiano. Di quella. E poi, quella buio, se ne imparerà migliore, toglierò finta. Però, andiamo noi avanti, lasciamo Trapinci davanti. E il nostro obiettivo adesso vuole andare esattamente a battere il cavo palestra Norman. Abbiamo le quattro medaglie, ce lo possiamo permettere. Nel frattempo che ci siamo, per evitare i Pokémon selvatici, facciamoci un giro alla pista ciclabile. Scusate, io mi pare di avercela la bici con il tasto veloce, ma non mi ricordo qual è il tasto veloce. Questo? Ok. Perfetto. Perché se no non potevamo passare. Qui verrà cronometrato. Quante botte facciamo e quanto tempo impieghiamo. Quindi. Io, sinceramente, faccio veramente schifo. Maledetta. Undici collisioni, ragazzi. E vabbè. Io, purtroppo, non farò questo minigioco, anche perché non mi interessa molto e non è manco interessante a livelli del gameplay, in generale. Se voi volete provarci, ricordatevi che dovete avere la bici da corsa e non quella da cross. Noi l'avevamo cambiata proprio perché eravamo nel deserto e ci serviva questa per andare a prendere i fossili. Dunque, noi dobbiamo esattamente andare qui. No, salve, signor marino. Ehi, per te partirei in ogni momento. Dove siamo diretti ora? Torniamo a Bluruvia. Visto che per ora ci fa tornare solamente a Bluruvia. Da Bluruvia andiamo verso la città dove c'è la palestra di Norman. Abbiamo visto che c'era una nave, non so se avete visto lo scorcio. Quella non la esploreremo subito quando avremo surf perché servirà anche sub. Ecco, ci siamo sbarcati a Bluruvia. Vai pure e fammi sapere quando vuoi salpare di nuovo. Noi vogliamo salpare di nuovo, veloce. Siamo diretti a Petalipoli. Sulle ancore, Pico. Mio prediletto, stiamo per salpare. Torniamocene verso casa. Questa gameplay sarà appunto improntata allo sconfiggimento del padre del nostro personaggio principale. In questo caso Vera, o Haruk, se come lo volete chiamare. Nel mio particolare caso, del mio personaggio Bloody Rose. Ok, possiamo andare. Corriamo. Oh mio Dio, perché? Non volevo fare il giro lungo. Vabbè, noi scappiamo perché queste sono battaglie che non ci dovrebbero manco toccare per l'anticamera del cervello. Ok. Perfetto, siamo tornati. Io direi di non perdere tempo, anche perché non penso sia cambiato qualcosa. E ce ne andiamo direttamente alla palestra. Salve. Ehi, V-Rose, la strada per diventare campione è ancora lunga. Le porte di questa palestra si aprono solo se batti gli allenatori. Ops, le porte di questa sala sono già aperte, non attaccarmi. Gli allenatori della palestra di Petalipoli usano tanti tipi di strumenti. Dalla porta di sinistra si accede alla sala velocità. Dalla porta di destra si accede alla sala precisione. Il nome della sala è scritto sulla porta, fa una scelta ovulata. Una volta scelta la porta, beh, lanciati nella sfida. Ok. C'è scritto sala velocità, vuoi trepassare la porta? Ah, non ti danno nessun indizio. Ok, no. Facciamo sala velocità. Non so perché mi ispira la velocità, quindi andiamo alla velocità. Salve. La capacità di colpire prima dell'avversario. Già questo mi dà un bel vantaggio, non credi? Probabilmente sì, ma non è detto che tu vincerai per questo vantaggio, mio carissimo Carletto. Ha uno Suello. Che è sicuramente più veloce del mio Trapinch. E noi usiamo, usiamo Granocchio. Non è un problema. Mamme. E con questo abbiamo diminuito la difesa speciale. Allora, in realtà avrei potuto fare quello della precisione, sinceramente. Però, quello che a me mi interessa qui è fare evolvere Trapinch e poi lo cambierò. Madonna lì per pozione, no? Mio Dio, sarà una palestra lunga e sofferta. Io ne sono sicura. Però abbiamo tolto anche abbastanza. Speriamo che con il prossimo... Cade giù Suello. Così siamo a posto. Perfetto. Trapinch è a livello 35. Quindi avremo Vibreva. Vibrava. Vibriva. Non so come si chiama. Vibrava, io lo chiamerò. È stata una lotta superba. Grazie. Cosa? Trapinch si sta evolvendo? Ecco, questo è un momento che io volevo condividere con voi. Perché potevo benissimo farlo evolvere in privato. Ma è giusto che anche voi godiate nel gameplay delle evoluzioni dei Pokémon. Vi avevo detto che avevi fatto stravolgere un po' la storia e questo è il risultato. È bellissimo. Mi piace tantissimo il colore delle ali. È fantastico. Vibrava Dragospiro. Esatto. L'ho impara a 5 livelli prima. È solamente da Vibrava. Quindi è un po' ostico. Yes, che voglio imparare Dragospiro. Allora. Un vortice danneggia il nemico da 2 a 5 turni. E forse questo serve. Finta. Vabbè. Colpo infallibile. Sgranocchio. Va bene. Turbo Sabbia. Toglierò. Perché non mi interessa. Scorda Turbo Sabbia. E al suo posto impara Dragospiro. Che è fantastico. Procedi verso la prossima sala dove ti aspetta una nuova sfida. Sulla sinistra si trova la sala confusione. Dalla porta a destra se c'è della sala difesa. Allora. Scusatemi. Anzi. Io torno indietro. Non posso andare da questa parte. Perché voglio batterli tutti semplicemente. Allora. Sistemiamo. E mettiamo Cacchemia davanti. Così facciamo evolvere anche lui. Scherzetto. Questa è la sala precisione. È dura quando tutti gli attacchi vanno a segno. Ok. Ciao quanta allenatrice Mary. Delchetti. Allora. Io direi di fare un... Un crescita. Non si dovrebbe fare troppo male appunto. Perfetto. Faccio finita adesso. Ricordiamoci che gli attacchi buio sono attacchi considerati speciali in questo particolare gioco. Ok. Ora siccome appunto mi colpirà un'altra volta. Faccio assorbimento che è sempre speciale. Potenziato dal Miracle Seme. Stub. E dovrebbe ritornarmi un pochino di salute. Anche se devo dire che non è stato molto... Non è stato molto come mi aspettavo. Mi sarei aspettato un qualcosa di più. Va bene. Tanto anche per quanto riguarda Cacnia io sto cercando di farlo evolvere davanti a voi. Anche perché come vedete i livelli li avevo lasciati proprio lì lì per l'evoluzione. Facciamo finta. Dovrei riuscire a batterlo con finta. Ok. Perfetto. Cacnia arriva al 32. Grazie. Sì. Guarda. È fantastico. Mi piace molto questo Pokémon. Sei una spanna sopra di me. Grazie. Ok. Cacnia si sta evolvendo. Questa è la puntata dell'evoluzione. Allora. Datemi il mio Cacturn. Yeee. È inquietante Cacturn. Ma mi piace proprio perché è inquietante. Ok. Ti aspettano gli datori sempre più forti. A sinistra dove la sala difesa. A destra c'è la sala recupero. La potenza di attacco dei Pokémon verrà comunque messa alla prova. Allora. Io che cosa faccio adesso? Secondo voi. Secondo voi che cosa posso fare io ora? Ma la cosa più ovvia di questo mondo. Cioè. Invece di andarmene nella sala difesa. Per ora la lascio lì la sala difesa. E me ne vado. Esattamente. Nella sala recupero. Perché io ho doppio calcio e il recupero. Nullo fanno. Ok. Salve. Proprio mentre pensi di averla spuntata l'avversario recupera PS. Ti immagini come ci si possa sentire? Beh. Ti faccio vedere io. Fammi vedere se riesci. Ti sfido. I dare you. Giorgino. Con uno Slakot. Che si sta grattando il cavo. Nessuno vuole bene a Slakot il Breriput. Ed facciamo un bel doppio calcio. Vediamo come si recupera. Wow. Quanto recupero che ha fatto. Mu ha ha ha. Ok. Non ho recuperato PS sufficienti. Che potenza di attacco. Eh beh. Il mio Bladiken non perdona. Bon sangue non mente. No aspetta. Solo lavorando sotto si diventa bravi allenatori. Mi devo applicare di più. Forza ti aspetta la sala KO in un attacco. Ok andiamoci. Anzi aspettate. Prima vado nella sala difesa. E' divertente. Perché almeno prendo esperienze. Più forte è la difesa. Più posso usare nell'attacco. Ok. E' tipo disposta ad alveare. Alexia. Con Wigglytuff. Ok. Doppio calcio. Spaffete. E' spaffete. Non è molto forte Wigglytuff. Ok. La difesa non è stata sufficiente. Già. Purtroppo con il mio Bladiken. E' nemmeno la tua difesa. Il tuo insegnamento prezzo. Ora fatti coraggio. La porta a sinistra conduce la sala forza. Dalla porta a destra. Si accede alla sala KO in un attacco. Dietro ad entrambe si c'erano allenatori molto combattivi. Allora. Prima di andare lì. Andiamo da questa parte. Che era l'altra. Sala confusione. Sì. Voglio attraversare la porta. Ok. Questa è la sala confusione. Fammi vedere quanto è forte il legame con i tuoi Pokémon. E beh. Siamo qui per questo, no? Or dunque. Carlo. Quindi uno Spinda. Un piccolo dolce Spinda. Che farà una brutta bruttissima fine. Poverino. Perché mi costringi a fargli fare questa bruttissima fine a Spinda? Fortuna che sono allenatori che hanno tutti un Pokémon. Quindi è molto veloce come cosa. Se era più lunga magari me la evitavo. Non sono riuscita a confondere abbastanza la tua squadra. Siete uniti da un legame molto forte. Beh. È da un po' che stiamo assieme. Adesso ci aspetta la sala forza. Riuscirai ad affrontare tanta potenza? Andiamo alla sala forza. Perché tanto poi possiamo tornare indietro per la sala KO in un colpo. Ok. Il nostro cavo palestra ha chiesto di dare il massimo nella sfida con te. Anche se dopo tutto si tratta di tuo padre. Ma fa bene mio padre a dire date tutto voi stessi. Perché io ho bisogno di Pexpi. Delia. Con Zanguz. Oh mio Dio, mi piace un sacco Zanguz. Non so perché. È proprio il design che mi piace un sacco di Zanguz. Eh, doppio calcio. Mi piace assai, assai. Peccato non sia questo grandissimo Pokémon. Ok. Ma ho dato il massimo. Non era abbastanza. Usi i tuoi Pokémon con lo stesso stile di tuo padre. Fatti forza, il cavo palestra tuo padre ti attende. Prima di andare dal cavo palestra mio padre, andiamo nella sala KO in un colpo. Sì, vogliamo oltrepassare la porta che dovrebbe essere il penultimo prima del padre di... di Vera. Il tuo legame di parentela con il nostro cavo palestra non mi intenerisce. Vedrai come ci si sente quando un Pokémon subisce un brutto colpo. Vediamo. Sempre se arriva a farmelo il brutto colpo. Anche se è alto, mi pare che... Mi pare che non è il caso. Non è il suo caso. Arriverò anche a livello 37 con Bloodigan, quindi... Immagina. Imagine all the people. Ciao, Figorot. Ok. E siamo a livello 37 con Bloodigan. Che attacco, madonna. 106 di attacco. Allora. La tua potenza? Sei proprio un osso duro. Ok. Tuo padre è davvero forte e nutre un profondo rispetto per lui. Scorga in te lo stesso talento. Spero che la sfida con tuo padre sia davvero vincente. E lo sarà. Sala cavo palestra. Che è scritto? Vai a vedere quali Pokémon ti aspettano. Vuoi oltrepassare la porta? Sì. Ciao, Norman. È arrivato il momento, papà. È arrivato il momento. Allora hai vinto quattro medaglie. Bene. Come promesso ci sfideremo in una lotta di Pokémon. Be Rose. Per me è una gioia poterti sfidare in una vera lotta. Ma una lotta è per sempre una lotta. In veste di cavo palestra ti farò quanto in mio potere per vincere. Be Rose. Cerca di fare anche tu del tuo meglio. Ok. Dimostreremo al paparino che siamo cresciti molto bene. Capo palestra Norman. Che ha spinda come primo Pokémon. Noi ovviamente abbiamo il nostro Blaziken. Che ci fa un bel doppio calcio per gradire. Così già il primo ci dice ciao. Ok. Se vi state credendo. Ma a Bloody Rose piace vincere facile? Sì. A Bloody Rose piace vincere facile. No vabbè. Anche perché comunque sono tutti quanti allenati. Quindi è inutile che sto qui a fare strategie su strategie. Se c'erano altri che dovevano allenarsi usavo gli altri. Ma al momento possiamo anche mandare avanti un po' Blaziken. Così poi cambiamo. Non uso sempre lui. Perfetto. Line Un. Ok. Siamo sempre più veloci. E siamo anche abbastanza forti da non dover dire... Che siamo in difficoltà. Quindi ottimo. Slacking. Eh questo sarà un po'... Arduo. Penso. Anche se obiettivamente ragazzi... Il padre di... Del protagonista sta facendo un po' una magra figura con noi. Oh my god! Stavo scherzando. Non sta facendo una magra figura. Baccacedro. Maledetto. Dovrebbe avere pigrone? No vabbè comunque è brutto colpo. Siamo dei grandi... Grande Blaziken. Bravo Blaziken. Ok. Ma per pochissimo livello 38 non è arrivato. Stento. Stento a crederci B-Rose. Mi hai sconfitto? Le regole sono regole. Prendi questo. Ebbene sì ti ho sconfitto papà. Armonia. Ok. Da papà però. No da norma. Questa medaglia migliora la difesa di tutti i tuoi Pokémon. I Pokémon che conoscono la mossa MN e Surf possono nuotare. Eccoti un regalo B-Rose. Sono sicuro che lo saprai usare correttamente. L'MT42. Che vediamo cos'è. L'MT42 contiene facciata. Raddoppi il potere delle mosse se un Pokémon è avvelenato, paralizzato o scottato. Può rovesciare la situazione in circostanze difficili. In veste di cavo palestra provo disappunto. In qualità di padre provo gioia e un po' di tristezza. È un sentimento strano. Oh? Chi è costui? Ah, eccoti B-Rose. Vieni con me. Vorrei darti una cosa. Non ti dispiace, vero Norman? Posso rubarti B-Rose per qualche minuto? Non ho aspettato manco che gli dicesse sì. Ah, il papà di Lino sa. Ciao B-Rose. Scusa se ti abbiamo fatto venire qui in questo modo. Il soggiornamento a Yania ha giovato molto alla salute di Lino. È solo grazie a te. È vero che quando ha lasciato la città l'hai aiutata a catturare un Pokémon? Credo che tu abbia fatto la felicità di Lino. A dire il vero non solo quella di Lino, ma anche quella di un padre. Sono contento che tu possa contare sul tuo valido... Che possa contare sul tuo valido aiuto, scusate. Ecco un segno del mio apprezzamento. Oh sì, abbiamo Surf. Se il tuo Pokémon può fare Surf, potrai visitare tanti posti diversi. Lino tornerà a casa presto. Non sto nella pelle. Ok, vediamo che dice lei. Mi raccomando, non lo dire a mio marito. Lino ha lasciato mentane senza dire nulla a nessuno. Sai, Lino è un ragazzo fragile, ma estremamente determinato. Sono sicuro che un giorno tornerà sano e salvo. Ok, ragazzi. Io direi che momentaneamente possiamo finire qui il gameplay. Ora, prima di staccare, facciamo così. Allora. Prendiamo la MN Surf. Che tanto sarà quella che dovremmo usare. E ovviamente la insegniamo a Zoomeril. Solo che... Dovrei vedere... Riccio il scudo, rotolamento, bollaraggio. Allora, bollaraggio può ridurre la velocità, quindi per il momento gliela lascerei. Rotolamento, dura, potenza 30 e si intensifica. Riccio il scudo può aumentare la difesa, quindi direi di levargli azione. E siamo a posto. Perfetto. Ottimo. Ok, per il prossimo gameplay noi siamo pronti. Intanto curiamo la squadra, perché se lo merita la squadra di essere curata. Controlliamo un attimino le statistiche di Vibrava e di Cacturn. In modo tale da... Da bearci, ecco, di questa visione. Che comunque è molto molto bella. Abbiamo vissuto questa cosa insieme. E la cosa non può che far piacere. Allora, ragazzi miei. E' fantà. A me piace proprio parecchio come Pokémon. Non ci posso fare te. Non ha queste grandissime mosse. Anche perché Dragospiro... Drago dice potenza 60. Non è manco male. Soltanto che il Drago prende l'attacco speciale. Lui in attacco speciale non è molto avanzato. E' più di attacco fisico. E impara tutte cose speciali. Cioè solamente la terra è fisica in questo senso. Quindi... Pazienza. Veramente tanta pazienza. Non so se lo terrò fino alla fine. Io spero di sì. Spero che comunque mi permetta di finirlo. Anche con lui che non è al massimo. Anche perché di Draghi c'è Altaria. Ma non ci tiro tanto su Altaria. Non mi piace molto. Detto da una femmina poi. Tutto dire. Cacturn. Cacturn mi piace un sacco. Vedete attacco speciale 86. Attacco 82. Difese più o meno. Eh velocità nemmeno messa malissimo in questo caso. Quindi ragazzi. Io che altro ho da dirvi. Nulla. Al prossimo gameplay andremo per mare. Per mare e monti andremo. No solamente per mare. Faremo tutto un percorso. Da... Dalla casa del signor marino. Fino a Pluruvia. Poi a Ciclamipoli. E torniamo anche lì. E vedremo come andrà avanti la storia. Quindi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Vi ringrazio per la pazienza di aver seguito tutta la palestra. Perché io non sono andata col percorso netto. Ma sono... Avete visto? Sono tornata indietro. Appunto per far prendere esperienza. Quindi se voi potete farlo. E non avete difficoltà. Non avete scazzo. Per virgolette. Fatelo. Perché l'esperienza giova. Come vedete io ho fatto una palestra. Senza dover nemmeno faticare più di tanto. Perché sono stata io ad allenare i Pokémon. E li ho allenati fino a un certo livello. Fino a rendermi le cose facili. Perché io lo voglio così. Poi magari se voi volete un pochino di difficoltà in più. Ovviamente andate riducendo i livelli. Invece di allenarli troppo. Quindi vi continuo a ringraziare. Grazie per avermi seguito fino a qui. Spero che continuate a seguirmi. In questo percorso. Perché oltre a ottenere le altre medaglie. A vedere come va a finire con il team Magma. E il team Hydro. Ci sarà la Lega. Dopo la Lega ci saranno anche i Pokémon. Sia tutti i luoghi nascosti. Che tutti i Pokémon leggendari. Quindi ve lo voglio fare completo. Questo gioco. E che dire. Quindi ci vediamo al prossimo gameplay. Sempre qui con su Pokémon Smeraldo. E come lo dirò su 5-8.